Il coinvolgimento delle amministrazioni per la gestione coordinata delle acque dei grandi laghi subalpini, tema centrale del progetto simile, è molto coerente con la mission della Fondazione Politecnico di Milano, che ha come obiettivo quello di coinvolgere il mondo della ricerca, le pubbliche amministrazioni e le imprese per fare in modo che si creino prodotti e servizi a grande valore per il cittadino.